Per chi? Io mi son rotto le palle La trasmissione sempre più imbarazzante Nardo e Codomaccio sono due scoriioni Queste imigazioni mi hanno rotto i coglioni E vai! Io mi sono rotto le palle, la trasmissione è sempre più imbarazzante, naso il codumascio sono due scoreggioni, queste imitazioni mi hanno rotto i coglioni. Tutte le mattine, su tele radiostere, ci sono tre analfabeti, maestri dei peti, è giusto ribadirlo, io faccio un altro mestiere, io faccio un altro mestiere, se non fosse chiaro il mio è un altro mestiere, io faccio un altro mestiere, io mi sono rotto le palle, la trasmissione è sempre più imbarazzante, naso il codumascio sono due scoreggioni, poste imitazioni mi hanno rotto i coglioni. Io mi sono rotto le palle, la trasmissione è sempre più imbarazzante, naso il codumascio sono due scoreggioni, poste imitazioni mi hanno rotto i coglioni. Io mi sono rotto i coglioni, io mi sono rotto i coglioni, io mi sono rotto i coglioni, io mi sono rotto i coglioni. Con tutte queste imitazioni, vabbè ridi ridi.